Probabilmente questo è un momento negativo, su questo penso che non c'è bisogno di un mago, è un momento negativo, dobbiamo riflettere, dobbiamo ragionare su tutto quello che si può fare per cercare di migliorare le cose, su questo non ci piove, è normale che io lavoro 24 ore al giorno per cercare di far bene, non comunque vengo al campo sconfitto o penso di non poter vincere, su questo non esiste, quindi noi continueremo a lavorare 24 ore al giorno, è normale come ha detto il direttore, bisogna riflettere su tutto, ognuno per le proprie competenze naturalmente, nel senso che ognuno per le proprie responsabilità, io credo di avere delle responsabilità come ognuno ha le proprie, quindi è normale che io faccio parte della squadra e sono anche un pezzo importante della squadra, quindi è ovvio che conosco il calcio, però credo di lavorare 24 ore al giorno per questa società con grande passione e con grande determinazione. Nei momenti difficili non mi sono scoraggiato, sicuramente non mi scoraggio adesso, ovviamente è un momento difficile, però caratterialmente penso di essere una persona anche abbastanza forte, quindi non ho paura del futuro.